buonasera buonasera anche se non c'è sottopalla come si è messo soprattutto è ritornato eccolo serve una sega eccola vai da napoli da napoli con furore un urlo per gennaro massimo a te in cavolo no a te in cavolo e tu fai il segaiolo guarda che gli hai fatto da filipetto guarda che fa con la sega gli ci vuole una benedizione lampo fermati che c'è un po ricco ricco ognuno benedicus vobis impotentis deus peccatoribus bestemmiorum no vaffanculo no sulla benedizione no esci satana da questo corpo malefico maledetto allora mosca mosca mordi 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 guarda come rite vado ali senza guarda guarda eccolo gennaro l'aveva vista eh no come ti sembra bellina bellina si meno male stai foto stai foto con le figurine no eh ho appiccicato le figurine ci ho divertito con la colla uno a uno no non è vero è tutta una pellicola eh lo so ma il pannello della composizione eh sì approvata quindi veramente veramente alti siete come gigino despulcia tu tu sei un imbecile di qui grossi ma grosso un bel boccio ma tu non vuoi sapere più da un acciaista che lavora l'acciaio ma che vuol dire l'ingegnere felle l'ingegnere felle ma chi è che fa il disegno e il coso è il tecnico voi ma che stai di voi siete come voi siete come peppino spara l'està no voi siete come peppino spara l'està sento il piatto mio ma questa è un'altra scusi lei ma questa omelettere omelettata con tartufo ritartufato che dieta è oh no che dieta è è quella che mi fa il cazzo mio e dopo e dopo gli altri buoni loro ma tu mangi il pane ma io mangio quel cosa mangiare troppo pane oh no nonno o no nonno italia è ossia olanda italia ma di che parla molto ma guardi la partita dei curi ma guardo uno e l'altro guarda anche la sorca si si vede ma si vede guardate lei che sta a fare i cappelletti ma è settembre come come ma è antisismico questo si o no va via per lei forse di un palpare il discone allora sta bene no adesso lo fai uno ne vuoi assaggiare che ripieno che fosse così e nei piedi che fai mamma mia buonissimi un po' come si chiude questi ragazzi sono perle vai vai siamo gente semplice cappellino non le mangio no mangio quelle aperte ma questo l'hai fatto tu te le tiro ma perché sei sempre incazzato sei sempre incazzato ma perché scegli ma volevo stare un po' con voi non c'è da scappare non sei contento tu vieni a fagliarmi ma non l'ho toccato ma non l'ho toccato